L'uomo che si mantiene ancora su un bastone, che già fa praticamente, è il nostro vice presidente dell'Associazione Fantesia d'Epoca e unitamente lui vorremmo che presenziasse Dove sta la Presidente dell'Associazione Fantesia d'Epoca, con questo volevo saprotarvi, questa è una manifestazione Allora, noi dobbiamo anche dire che oggi che cos'è? Sono 170 anni da Pantevale Borbordica del 1854 che fu 4, il 20 febbraio, che tirò fino al 27 febbraio del 1854 Oggi, diciamo dopo domani, sono 170 anni e noi come associazione abbiamo fatto la rievocazione perché se lo sembra molto più di 700, a Pesì, è proprio diverso, come fu 4, che erano 1854 che avevano fatto a lei Complimenti bellissimi Anche di stare qua Perché c'erano tutte macchine E quindi loro vanno inizialmente la città E poi loro farei soltanto tutte le cose da male In associazione ... ... ... ... ... costumi costumi ecco grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti